sciopero dei treni venerdì di disagi per i passeggeri marchigiani picco di caldo e ora allerta vento previste forti raffiche tra stasera e sabato legge sull'urbanistica penalizzante biancani e vitri attaccano la regione forza italia convinta a pesaro tempi maturi per centrodestra carnevale di fano nuovi carri e beatrice venezzi testimonial buona serata benvenuti al nostro telegiornale di oggi oggi è venerdì primo dicembre e apriamo questa edizione occupandoci di un'altra giornata caratterizzata da scioperi questa volta canalizzati nel trasporto ferroviario dove è in corso un'astensione dal lavoro di 24 ore cominciata alle 21 di ieri e che durerà fino alle 21 di questa sera le immagini che vi mostriamo vengono dalla stazione di pesaro dove i passeggeri sono stati alle prese con diversi treni cancellati o ritardati soprattutto per quel che riguarda le corse regionali diversi disagi come testimoniato dalle code alle biglietterie che vi mostriamo uno sciopero di 24 ore che ne segue uno precedente di 8 ore attivato nella prima parte di giovedì agitazioni sindacali motivate in primis dalle richieste di maggiore sicurezza sul lavoro dopo il ripetersi di incidenti che hanno coinvolto il personale ferroviario e in questo primo giorno di dicembre si sono alzate improvvisamente le temperature toccando cifre superiori addirittura ai 20 gradi riscaldamento climatico che però durerà poco e che anzi vede la protezione civile delle marche attivare la fase di attenzione per un nuovo bollettino di allerta vento su tutta la regione dalle 18 di oggi è scattata infatti un'allerta di livello arancione fino alle 12 di domani per quello che riguarda la provincia di pesaro urbino soprattutto nel primo mattino le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 110 chilometri orari la protezione civile consiglia di tenersi distanti da alberature tensostrutture e impalcature l'allerta si manterrà fino alla serata di sabato ma in graduale attenuazione di intensità ed ora passiamo alla politica nei giorni scorsi vi abbiamo argomentato l'approvazione della nuova legge urbanistica delle marche che rinnova un impianto legislativo fermo pensate dal 1992 un'approvazione che ha avuto bisogno di ben cinque sedute di consiglio regionale per essere ratificata fra i malumori dell'opposizione a questo proposito i consiglieri andrea biancani e micaela vitri hanno voluto spiegare in una conferenza stampa quanto dal loro punto di vista questa legge diventerà penalizzante per le ristrutturazioni edilizie del 2024 vediamo la regione con l'approvazione di questa nuova legge urbanistica ha fatto degli annunci che non corrispondono alla verità ha annunciato che con questa legge si blocca il consumo di suolo e che ci sarà una vita più semplice cioè procedure più o meno complicate per i cittadini l'impresa i professionisti tutto questo dal nostro punto di vista non è vero perché invece questa norma basta pensare a quello che era il vecchio pieno casa una autorizzazione che consentiva ampliamenti fino da compresi fino al massimo del 20 40 per cento consentiva la riqualificazione energetica la messa norma sismica tutto questo dal primo gennaio non sarà più possibile quindi il piano casa nella regione Marche dal primo gennaio non si sarà più hanno deciso di fare una nuova norma in dergua che consente ampliamenti fino al 20 per cento ma in realtà anche questi ampliamenti fino al 20 per cento sono praticamente difficili da attuare ricordo che sarà possibile per ogni richiesta un voto del consiglio comunale sarà dovuta bisogna dichiarare la pubblica udità ci vorrà un parere per tutte quelle ampliamenti che superano i 30 metri quadri della commissione paesaggio e addirittura ci vorrà un accordo tra regione e ministero della cultura per individuare in particolar modo nelle zone B ma anche di tutto il resto della città ad esclusione dei centri storici per individuare quei fabbricati dove sarà possibile applicare questa variante che consente ampliamenti massimi fino al 20 per cento in questi giorni in questi ultimi mesi c'è stata la corsa da parte di molti per presentare appunto la propria pratica secondo me hanno fatto bene perché appunto molte delle cose che erano possibili fino al 31 dicembre dal primo gennaio non saranno più attuabili. Siamo rimasti cinque giorni in consiglio regionale proprio per i 400 emendamenti quasi 400 che abbiamo presentato noi dell'opposizione a questa legge sull'urbanistica non era mai successo nella storia della regione ma la maggioranza di acquaroli li ha voluti comunque bocciare e quindi ci ritroviamo ora con una legge che quando entrerà in vigore spero più tardi possibile paralizzerà tutto il comparto dell'edilizia e creerà gravi problemi e intasamenti agli uffici dei comuni e ai cittadini stessi. Faccio un esempio banale che riguarda ad esempio la città di Pesaro la città capoluogo se nelle zone cosiddette B ad esempio Loreto, Muraglia o tutte le periferie il proprietario ad esempio di una villetta a Loreto vuole fare il secondo bagno oggi come oggi è sufficiente che il suo tecnico mandi la richiesta al comune e gli uffici tecnici del comune autorizzano meno. Quando questa legge entrerà in vigore invece questa autorizzazione dovrà essere votata da tutto il consiglio comunale quindi da alcuni politici che magari non sanno nulla di urbanistica. Pensiamo cosa possa significare questo iter burocratico per la richiesta per arrivare alla calendarizzazione al voto e come votano i consiglieri comunali in base a una fantomatica pubblica utilità un concetto assurdo inconcepibile e io temo che questo possa dar adito poi anche a una serie di problemi legati a interessi personali o quant'altro perché poi sarà impossibile chiedere una qualunque modifica all'interno della propria abitazione. Ecco perché credo sia una legge davvero scelerata. Continuiamo a parlare di politica ma questa volta passiamo al centro-destra e in particolare a Forza Italia che domenica a Fano terrà il congresso provinciale per un partito che riconferma Elisabetta Foschi come coordinatrice di Pesaro Urbino. Foschi che oggi ha esternato la convinzione sulla forza di un centro-destra con le carte in regola per scardinare roccaforti di centro-sinistra come Pesaro e Fano. Forza Italia di Pesaro Urbino riparte da Elisabetta Foschi. Il partito punta sull'assessore Urbinate già commissario provinciale come candidata unica al congresso di Pesaro Urbino che si terrà domenica 3 dicembre dalle 10 al Tagotel di Fano. Mozione congressuale che per la Foschi è strettamente collegata al sostegno nazionale ad Antonio Tajani. I congressi si svolgono in tutte le province d'Italia perché oltre ad eleggere il coordinatore provinciale e il coordinamento provinciale verranno eletti i delegati nazionali che quindi andranno a Roma il 23-24 febbraio per eleggere il segretario nazionale. Questa è la scadenza a cui il partito di Forza Italia ha dato seguito dopo la morte del presidente Berlusconi abbiamo a leggere il segretario nazionale quindi era doveroso aprire la stagione congressuale ma anche a livello provinciale ormai erano da anni che non si svolgevano congressi io stessa sono stata nominata commissario nel 2019 e quindi un appuntamento importante anche di confronto interno, di dibattito interno come è giusto che avvenga nei partiti. Annunci che sono arrivati oggi in una conferenza stampa tenutasi nei locali del Bar Figaro di Pesaro, capoluogo di provincia sul quale Forza Italia proietta strategie per scardinare la roccaforte di centro-sinistra. Questa è una provincia storicamente di centro-sinistra dove proprio perché storicamente di centro-sinistra di fatto la classe dirigente di sinistra pensa che il consenso sia quasi un atto che viene così a sé senza collegarlo al merito o al giudizio sull'amministrazione o su come si è governato magari il proprio territorio o la propria città ed è proprio in questi momenti che se il centro-destra sa aprirsi e sa guardare anche oltre il confine del centro-destra parlando ad associazioni, a mondi che tradizionalmente magari hanno votato il centro-sinistra si può realizzare la svolta. In questa provincia è già successo, è successo prima a Fano e poi a Urbino dove il centro-destra non solo ha vinto ma dopo il primo mandato è stato anche in grado di confermarsi. Credo che Pesaro possa essere proprio una città di questo tipo in questo momento. Quindi raccogliamo molta volontà ad aprirsi e ad aprirsi anche a una svolta. Vedo invece un centro-sinistra molto arroccato a guardarsi all'interno, alle divisioni interne e anche per la scelta del candidato sindaco e quando un partito è molto concentrato sulle divisioni interne perde un po' di vista quello che accade oltre il loro confine. Forza Italia già attiva i tavoli di lavoro per la valutazione caso per caso dei 38 comuni provinciali che andranno alle urne a giugno. A Urbino verosimilmente c'è la possibilità di avere il terzo mandato quindi torneremo sulla candidatura di Maurizio Gambini. Pesaro è la città capoluogo e soprattutto dopo la vittoria ad Ancona l'anno scorso insomma diventa strategica in questa campagna del 2024 ma anche Fano che è la terza città delle Marche sono all'attenzione del tavolo nazionale e regionale del centro-destra quindi non solo a livello locale ma anche a livello nazionale si guarda attentamente e si è molto attenti ad accogliere le istanze di mondi dell'associazione, dell'impresa che sono attivi e che rispondono molto bene. È stata inaugurata a Carpegna la nuova superficie per atterraggio di eliambulanza attrezzata per il volo notturno un servizio finanziato con fondi regionali atteso da tempo da un territorio dalla complicata viabilità. Carpegna e l'Alto Montefeltro potranno avere tempi più rapidi per interventi di emergenza con eliambulanze che possono collegarsi a Fano e Pesaro in 10 minuti e in 15 minuti con Ancona e Fabriano. Restando in ambito sanitario dal 21 dicembre gli interventi chirurgici di asportazione delle adenoidi e delle tonsille per i pazienti sotto i 5 anni potranno essere eseguiti anche nelle strutture di otorino-laringoiatria di Pesaro e Fano. Fino ad oggi potevano essere operati solo al Salesi di Ancona mentre nelle strutture provinciali l'intervento era consentito solo ai bambini di età superiori ai 5 anni. L'azienda sanitaria provinciale ha ora completato un percorso organizzativo attrezzato fra i presidi di otorino-laringoiatria, anestesia e pediatria tale da evitare gli spostamenti alle famiglie. Dopo il mini-tour di presentazione del Rossini Opera Festival 2024 a Berlino e New York nel mese di dicembre il ROF sarà in Cina per firmare un protocollo di collaborazione con il Conservatorio di Musica di Shanghai, la più prestigiosa scuola di musica della nazione. Per il festival si tratta di un gradito ritorno dopo la mostra Rossini Opera Festival in Cina tenuta la scorsa estate in una stazione metropolitana di Shanghai percorsa quotidianamente da 100.000 passeggeri. E continuiamo ad andare alla scoperta dei tanti eventi natalizi in programma nella nostra provincia. Oggi ci soffermiamo sulla parata dei Babbi Natale che si tiene domenica ad Apecchio. Appuntamento che sostiene la Lega del Filodoro e che tenta il Guinness dei Primati per il maggior numero di Babbi Natale in marcia. La manifestazione è nata quasi per caso l'anno scorso grazie all'associazione Acursa che è stata sostenuta e patrocinata dal Consiglio regionale e lo stesso sarà anche per questa edizione una manifestazione finalizzata alla solidarietà in favore della Lega del Filodoro. Sottolineiamo l'importanza della vicinanza di tante persone che organizzano iniziative a favore della Fondazione e quindi dell'importanza di questi contributi, di questo sostegno per la nostra attività che dura da 60 anni a favore delle persone sordoceche e pluriminorate psicosensoriali. Domenica alle ore 15 ci sarà la partenza di questa grande parata. Quest'anno ci sarà una sorpresa, qualcosa di magico arriverà dal cielo e quindi invito tutti a partecipare. Per registrarsi è necessario andare sul link che noi metteremo sulla pagina della Corsa e metteremo anche sulla pagina del Consiglio regionale che patrocinerà questo evento e semplicemente registrare la propria data di nascita, il proprio nome perché questo servirà ancora una volta per fare il doppio controllo per inviare poi i dati al Guinness dei primati e vedremo se riusciremo questa volta a vincerlo. L'anno scorso avevamo 343 partecipanti, quest'anno ci auguriamo di averne molti, molti di più. Non parliamo solo di Natale perché con abbondante anticipo si pianifica già il Carnevale. È il caso di Fano che oggi ha presentato le prime anticipazioni su un Carnevale che si terrà dal 4 all'11 febbraio 2024 con un'anteprima il 28 gennaio. Finalmente cominciamo a parlare di Carnevale, di Carnevale 2024 e come ogni periodo natalizio iniziamo il nuovo tesseramento, regaliamo alla città uno spettacolo e quest'anno uno spettacolo dedicato a Italo Calvino nei suoi cento anni dalla nascita che grazie alla collaborazione del Comune di Fano, Ufficio Cultura, della BCC e della Fondazione riusciamo a regalare alla città domenica 3 dicembre alle ore 18 appunto in Sala Verdi e poi appunto come ho detto iniziamo il nuovo tesseramento. La settimana prossima sarà possibile anche iniziare a comprare i biglietti per il Carnevale 2024 e quindi potrebbe essere anche un'idea di regalo di Natale, regalare un biglietto di Carnevale. Ovviamente ci saranno carri nuovi, avremo quest'anno una sfilata di ben 14 carri, ovviamente non tutti nuovi ma avremo 5 carri nuovi e poi la testimonial di quest'anno che il titolo della manifestazione quest'anno è fuori dalle righe dagli spazi e quale miglior testimonial Beatrice Venezzi, la direttrice d'orchestra, anzi direttore come si è fatta a chiamare lei a Sanremo e ha creato tanta polemica. Quindi anche lei si è annoverata un po' fuori dalle righe dagli spazi e quindi abbiamo, grazie anche alla collaborazione dell'Orchestra Sinfonica Rossini che l'ha invitata per un concerto, sarà con noi l'ultima domenica di Carnevale e quindi potrà vedere anche il carro a lei dedicata. Sotteniamo l'importanza non solo del lavoro dei carristi importantissimi perché effettivamente il Carnevale è anche espressione artistica che avviene attraverso i carri e le maschere che vengono a muoversi nel corso mascherato ma è anche un lavoro di squadra fatto da tante persone, tanti volontari e tante collaborazioni che si creano in città. Quindi siamo contenti che questo sia un momento veramente felice e importante non solo per i nostri concittadini ma tutti i turisti e tutti coloro che verranno a vedere questo nostro Carnevale. È iniziato il mese di dicembre e con lui arrivano anche nuovi programmi su Rossini TV ad aprire il sipario saranno infatti le Sinfonie di Maestri questo nuovo format di approfondimento musicale dedicato agli artisti e anche ai concerti dell'Orchestra Sinfonica Rossini programma che partirà martedì 5 dicembre alle ore 20.10. Il mese di dicembre inaugura nuovi programmi di Rossini TV ad aprire il sipario saranno le Sinfonie di Maestri nuovo format di approfondimento musicale dedicato agli artisti e ai concerti dell'Orchestra Sinfonica Rossini in occasione del trentennale della prestigiosa istituzione culturale pesarese sostenuta da Xanitalia. Attraverso la conduzione di Emanuela Rossi scopriremo il ricco calendario di appuntamenti concertistici conosceremo i maestri professori di rilievo internazionale che caratterizzano l'Orchestra Sinfonica e apprezzeremo virtuosismi musicali direttamente dagli studi di Rossini TV le puntate andranno in onda in prossimità di concerti si comincia martedì 5 dicembre alle 20.10 quando conosceremo il maestro di corno Enrico Barchetta e il direttore per la formazione Norris Borgoggelli il tutto a pochi giorni dal concerto di Natale l'abbraccio della musica con musiche di Tchaikovsky e canti tradizionali natalizi in programma al Teatro Rorsini sabato 9 dicembre alle 21.00 una performance che sarà diretta da Juan Miranda con il coro Associazione Amadeh e il gruppo Danza Oggi a coreografare un concerto a sostegno del progetto di Caritas Diocesana abbraccia un bambino e allora non perdetevi la prima puntata di questo nuovo programma di Rossini TV appunto Sinfonie di Maestri che vedrete martedì alle ore 20.10 ed ora concludiamo quest'edizione con lo sport perché è già vigilia di campionato per la VL e per l'Ital Service Calcio a 5 in campo già domani entrambe in trasferta entrambe reduci da vittorie convincenti dopo il bel successo contro Eviso la squadra di Buscaglia prova a cercare continuità di rendimento su un campo complicatissimo come quello di Reggio Emilia con il dubbio sul recupero di Quincy Ford palla due domani alle 20.30 dopo la vittoria con Verona l'Ital Service fa invece tappa a Cosenza contro una squadra affamata di punti salvezza per i pesaresi sarà una prova di maturità per consolidarsi in zona playoff nel calcio grande attesa per la Vispesaro alle prese col derby sentitissimo col Rimini in programma al Benelli domenica alle 20.45 appuntamento casalingo anche per la Megabox Vallefoglia che domenica alle 17 ospiterà il Bisonte Firenze dopo la vittoria ritrovata a Trento le tigri bianco-verdi provano a gioire anche davanti al pubblico pesarese e allora sarà davvero un appassionante weekend dedicato allo sport ma voi questa sera restate ancora su Rossini TV perché alle ore 21.20 vi mostriamo un'anteprima di quelle che saranno le iniziative del Natale a Fano con il Natale Più e subito dopo invece andremo a scoprire questo evento che si è tenuto a Vallefoglia la quarta mostra a mercato dedicata proprio a Vallefoglia d'autunno e vi ricordiamo anche che domani torna la nostra rassegna stampa con voi ci sarà Marco Cadedu vi aspettiamo alle 7.20 saremo in diretta sul Canale 80 in diretta sulla pagina Facebook in diretta sulla nostra applicazione sul nostro sito internet rossinitv.it io vi auguro un buon proseguimento di serata il nostro Rossini News torna lunedì alle 19.30 buona serata e buon weekend e buon weekend